oh finalmente di nuovo è live ok 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 allora questa puntata ovviamente come dice dal titolo è dedicata a un ticket free ovviamente come vedrete poi nell'immagine della puntata ovviamente si sta parlando del festival del festival Tapsosland allora sto intanto sto mandando l'invito all'ascolto per tutti quindi un secondo preciso di pazienza un secondo dai che non manca molto non manca molto allora intanto nel frattempo vi dirò questo ticket omaggio è valido per un solo giorno il giorno in cui sarà presente un artista siccome abbiamo contattato la diciamo la casa discografica che tratta questa artista abbiamo deciso di fare questa questa gara quindi il primo che ci contatta non so su instagram su facebook oppure su whatsapp al 346 3107 991 dicendo l'artista in questione il nome dell'artista in questione vincerà vincerà questo ticket dal valore di 30 euro ok allora tra breve metteremo il brano dell'artista così che potete ascoltarlo e capire lo passerò per qualche minuto così intanto vi farete un'idea poi magari se qualcuno già lo sa può può dirlo anche dopo questi pochi minuti però non saprei l'artista a livello internazionale sì però non so se se è un genere che voi conoscete o meno comunque tornando a noi tornando a noi allora mettiamo questo brano che dite il brano è pronto l'ho caricato e ora tre breve parte diciamo tra 3 2 1 via 3 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 10 11 12 13 13 13 14 15 16 21 23 23 24 Grazie a tutti. 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 L'artista in questione è intanto un DJ, ovviamente, producer. E non so, vediamo se vi può aiutare. Di solito, se non è in giro per il mondo, si trova a Goa, in India. Di chi stiamo parlando? Vediamo, 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 magari se metto un pezzo un po' più, non lo so, un pezzo un po' più conosciuto. Un pezzo un pezzo un pezzo dove magari lui è live. Che dite? Vediamo, 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 vediamo un po' cosa succede.